Nonostante ci sono ben otto iscritti all'asilo nido di Sansa per carenze strutturali del piano di zona, nei confronti del comune di Sansa, tra l'altro l'unico che paga le quote regolarmente, ancora il servizio non viene attivato. Il sindaco di Sansa minaccia ripercussioni. Quali sindaco? In primis voglio dire che praticamente Antonio Florio si rifiuta di aprire l'asilo nido a Sansa perché ritiene che il numero non sia congruo. Voglio far presente che l'anno scorso siamo partiti con gli stessi numeri e oggi però la direttiva è quella per i piccoli comuni di dare priorità agli asili nido e di aprirli anche con numeri esigui perché è un servizio, essendo un servizio il piano di zona deve fare questo. Io se fossi in Antonio Florio mi preoccuperei di recuperare le somme di quei comuni che non hanno pagato, forse mai pagato, le spettanze al piano di zona. Visto che noi siamo un comune virtuoso e abbiamo pagato sempre e siamo forse l'unico comune che ha pagato regolarmente le quote, mi attiverò per far sì che si faccia chiarezza anche su questo punto e da domani sarà guerra totale al piano di zona. No 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 Grazie.